Milano ha sempre individuato nelle ultime ore il suo nuovo allenatore per la prossima stagione che sostituirà Pioli. Sulla panchina delle Milan siederà molto probabilmente Roberto De Zerbi, anche se il Milan aveva opzionato anche Diago Motto, ma Diago Motto sembra molto vicino alla Juventus, la Juventus ha battuto quasi sicuramente la concorrenza delle altre e quindi De Zerbi è il secondo favorito del Milan era proprio Roberto De Zerbi e quindi sarà lui quasi sicuramente a sedersi sulla panchina del Milan. Il Robert De Zerbi è stato bocciato dalla tifoseria, non l'hanno voluto e quindi si è divottato sull'italiano che è cresciuto anche nelle giovanili del Milan e quindi Roberto De Zerbi che quindi ritornerebbe come allenatore nel Milan che lo ha lanciato da giovane. Grazie. Grazie. Grazie.